Mi chiedo se sia giusto che io stia qui. Ma dai, che cosa dici, no? Anche quando abitavo a Sendai e a Yamagata più tardi, pensavo la stessa cosa. E così sai ogni volta, se ci sono io qualcuno soffre. Perché questo pensiero una volta mi fa stare male, lo sai? Io sono l'ultimo di tre fratelli maschi. I miei volevano una femmina, invece un maschio, un'altra volta. Per loro è stata un po' una delusione. Infatti, sono l'unico a non avere quasi nessuna foto. Che c'è? Perché ridi? Non era questo il senso? No, non era questo. Allora, ciao. Asano Quello yukata ti sta molto bene. Buonanotte. Grazie. A domani. Asano